salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche questo per non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo subito il primo video è stato caricato su tiktok da un tiktoker che si fa chiamare medassifica show il tiktoker ha raccontato che durante una passeggiata in un bosco col suo cane ha notato uno strano comportamento da parte dell'animale ad un certo punto il cane si ferma davanti a un albero e incomincia ad abbaiare non capendo cosa stesse succedendo il tiktoker prende il suo smartphone e comincia a riprendere il cane mentre abbaia davanti a questi alberi rivedendo le immagini più accuratamente nota subito questa strana sagoma bianca che passa proprio davanti al cane passando in mezzo ad alcuni alberi chiara james è una studiosa di storia antica durante un viaggio in egitto mentre era con alcuni suoi amici entrano in una piramide e incominciano a scattare alcune foto durante la loro visita in questa piramide gli strumenti e cominciano ad impazzire oltre alla strana anomalia degli strumenti notano su una foto una strana figura traslucida logicamente in quel momento che la foto è stata scattata quella figura non c'era vedendo alcune immagini egiziane notano che lo stesso abito che indossava quella strana figura viene riportato su alcuni disegni egizi gli stessi disegni mostrano alcuni maghi e il loro abbigliamento e sembra che sia lo stesso della figura traslucida catturata sulla foto il prossimo filmato viene da un canale youtube chiamato the port world lo youtuber occasionalmente fa delle indagini paranormali questo video è stato girato dallo youtuber in una casa dove un tempo abitava un uomo abbastanza solitario iniziate le indagini fa una panoramica della casa ad un certo punto un oggetto viene scaramentato a terra da una forza invisibile e da lì altri strani fenomeni incominciano ad accadere 6 7 8 9 10 11 23 24 46 Grazie a tutti. 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 Ciò che viene ripreso è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Grazie a tutti. Più passa il tempo e più i fenomeni continuano ad aumentare. Lo youtuber, lo youtuber, preoccupato per l'amico, tenta di chiamarlo non ricevendo nessuna risposta. A questo punto decide di andare al piano superiore per controllare. L'ultimo filmato è stato filmato è stato catturato da una telecamera è stato catturato da una telecamera a circuito chiuso. Il video mostra una famiglia. la mia figlia mentre dorme è la loro piccola che va a metterla mentre dorme è la loro piccola che va a mettersi nel letto dei genitori. Sembra però che a un certo punto, una strana forza invisibile, tenti di buttare giù dal letto la bambina tirandola per un piede. Bene amici, anche per oggi abbiamo finito. Spero che i video vi siano piaciuti. Non dimenticatevi di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi saluto qui e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!